A Montesilvano è stata presentata la Carta dei Servizi Turistici che recepisce direttive comunitarie e regolamenti europei e internazionali e si ispira al Codice del Turismo, in particolare all'articolo 66, dove si specificano gli standard dell'offerta di servizi turistici pubblici sul territorio nazionale. La Carta dei Servizi Turistici è un documento che vuole testimoniare l'intesa tra l'amministrazione comunale di Montesilvano e tutti gli stakeholder interessati, come ad esempio le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori, al fine di tutelare i diritti del turista ma anche quelli dell'operatore turistico e conseguentemente mettere a disposizione delle imprese turistiche uno strumento idoneo a testare e migliorare la qualità raggiunta. Consapevoli del fatto che ormai la prima economia del territorio è diventata quella legata al turismo e soprattutto delle buone prospettive di crescita che ci potranno essere nei prossimi anni, abbiamo voluto investire in questo settore. L'abbiamo fatto a 360 gradi, l'abbiamo fatto con lo sgombro di via Rosto con la chiusura dei centri di accoglienza straordinaria, l'abbiamo fatto andando a riqualificare via Maresca, proponendo e raggiungendo l'obiettivo di entrare tra i borghi autentici d'Italia per il borgo di Montesilvano Colle e l'abbiamo fatto potenziando la rete delle piste ciclabili che sono sempre tanto gradite ai cittadini e ai turisti e attraverso i riconoscimenti dell'impegno profuso che sono arrivati con le bandiere verdi, la bandiera gialla e da ultimo, in ordine di tempo ma non di importanza, il riconoscimento dell'Oscar dell'Ecoturismo 2019, unico comune in Italia, per la sapiente politica di doppia inclusione sociale che abbiamo posto sul campo. Questa carta dei servizi è il giusto colorlario al impegno intrapreso, vogliamo far sentire il turista a casa coccolato in ogni momento con tutte le informazioni che possono servire anche a rilanciare l'economia del territorio e quindi dalle informazioni storiche, le informazioni culturali, le informazioni per le manifestazioni, oltre che ovviamente le informazioni di pubblica utilità ma è anche una carta dei servizi che serve per vincolare albergatori, bagnatori, commercianti a un costante processo di confronto con l'amministrazione e di crescita.